Vi viene ristuto, oggi voi vi occupate della narrazione del territorio che può favorire la valorizzazione del territorio. Assolutamente, come Museo Rifuso qui nasciamo proprio con l'intenzione di valorizzare quella che è la nostra identità, prima di tutto. Perché? Perché l'identità è quella cosa che ci rende unici al mondo, ma non deve essere una cosa banale. Quindi nella ricerca, ecco perché Emilio Casalini è qui oggi, perché bisogna, per poter pensare allo sviluppo del territorio, bisogna fare anzitutto un lavoro di recupero di quell'identità che sono identità di valore, quindi che creano veramente un unicum, che possono creare un unicum al mondo, ma soprattutto si deve acquisire anche la capacità di raccontare quell'identità. Quindi la capacità narrativa, ecco perché oggi presentiamo qui insieme ad Emilio un suo progetto che è stato pienamente sposato dal Museo Rifuso, che si chiama Cantieri di narrazione identitaria e si lascia ai ragazzi la possibilità di raccontare l'identità del proprio territorio attraverso dei progetti che poi verranno condivisi con l'amministrazione comunale e molti dei quali poi speriamo possano essere veramente realizzati. Perché? Perché tutto quello che portiamo avanti come Museo Rifuso deve assolutamente essere utile. Quindi ogni azione che portiamo avanti non è mai fino a se stessa, per cui anche i progetti che porteranno avanti i ragazzi verranno, lo scopo è quello di fare in modo che siano utili per la comunità, quindi utilizzati anche dall'ufficio turistico per esempio, per la promozione del territorio. In che maniera nel concreto voi già dai prossimi mesi cercherete di coinvolgerli? Allora, partiamo subito col progetto Cantieri di narrazione identitaria, quindi i ragazzi verranno divisi in gruppi. Intanto ci sarà una prima fase di riscoperta del territorio, perché ci rendiamo conto che spesso, ma non solo i ragazzi, in primis noi, non conosciamo il nostro territorio. Quindi c'è tutta una fase di recupero che verrà fatto grazie alle associazioni. Museo Rifuso è un... in realtà non è un'associazione, è una rete di comunità, dove... all'interno della quale ogni associazione ha un ruolo ben preciso, perché negli anni le nostre associazioni hanno acquisito un know-how che è veramente importante, per cui ogni associazione contribuisce con un'expertise particolare, che è proprio sua. Grazie all'aiuto delle associazioni riusciremo a formare, a condividere informazioni sul patrimonio del nostro territorio con i ragazzi. Quindi i ragazzi apprendono l'identità, la storia, il patrimonio storico-artistico-culturale del territorio, però poi viene lasciata la libertà ai ragazzi e alla loro creatività di narrare, quindi trasformare quella che è la conoscenza in capacità di narrazione e quindi in risorsa turistica. Le iniziative che già avete avviato, qual è il bilancio che voi già fate? Voi operate già da un po' di tempo a Sciacca. Sì, allora, ci tengo a precisare anche questa cosa, è ottima la domanda. Ti faccio i complimenti. Il Museo Rifuso quindi nasce veramente con l'obiettivo di promuovere il territorio. Per la promozione del territorio ci sono dei passi che devono essere compiuti, che necessitano tempo e pianificazione. Non siamo organizzatori di eventi, anche perché per questo ci sono tante altre associazioni che lo fanno, per poter raggiungere obiettivi che sono in primo luogo a medio e lungo termine. Quindi noi miriamo veramente a quegli obiettivi. C'è bisogno di portare avanti una serie di azioni che chiedono tempo di costruzione, di rete. Stiamo costruendo molto lavoro insieme ad Emilio, che è il giornalista della RAI, quindi a Roma. Stiamo costruendo un lavoro con Bruxelles, perché comunque abbiamo bisogno di interfacciarci anche con l'Europa. E quindi sono tutte relazioni molto concrete. Stiamo costruendo delle relazioni, dei rapporti con il territorio che ci circonda. Il museo diffuso ha da poco, venerdì, firmato il protocollo di intesa anche con le istituzioni scolastiche a Bivona e lancerà il progetto museo diffuso in 12 comuni dell'area dei Sicani, ma già anche la valle del Belice ci ha contattati per replicare lo stesso metodo anche in quella zona. Quindi stiamo costruendo soprattutto il concetto di rete, che non si ferma solamente a Sciacca, ma si espande nel territorio. Perché quelli sono i presupposti per poter veramente pensare e puntare alla promozione del territorio. Promozione del territorio che passa attraverso la formazione di un sistema. Quando si parla di turismo non si può parlare di turismo. Io ho avuto un ristorante e non potevo tenere il ristorante aperto perché non c'era gente che camminava per le strade, quindi erano dei costi inutili. E allora un sistema funziona quando ogni anello di questo sistema lavora bene. E il nostro obiettivo è quello di agire proprio su ogni anello, in maniera tale che mettendosi insieme tutto funzioni come deve.